Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. È prevista neve in A1 tra Parma e Calenzano e sulla variante di Valico. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Sulla statale Trebbis-Tiberina scambio di carreggiata tra i chilometri 140-500 e 142-900 nei comuni di Pieve Santo Stefano e San Sepolcro. Infine per i treni, sciopero nazionale del personale Trenitalia fino alle ore 17 riguarda il settore vendita diretta e customer service. I treni invece circoleranno regolarmente. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!